Dopo questa pausa estiva che ci ha consentito un mesetto di riposo ripartiamo con il design artigianale e con lo storytelling per portare alla vostra conoscenza dei casi di creativi che hanno scelto l'autoproduzione. Con questo numero noi di fatto apriamo un nuovo anno di design artigianale perché il design artigianale di fatto esce con il numero 0 il 15 settembre 2014. Abbiamo voluto dedicare questa riapertura a un'iniziativa molto interessante che ha messo in campo Alessandro Guerriero con Tantam per la fondazione dedicata a Enzo Mari. E noi abbiamo nel giornale degli sponsor che ci sostengono abbiamo pensato di sostituire questo spazio per un numero per incentivare e far conoscere la proposta di Tantam per la creazione di questa fondazione. per cui chi vorrà attraverso i link potrà informarsi e capire come sostenere questa iniziativa dedicata a uno degli uomini più significativi del panorama del design italiano e anche dell'autoproduzione. Noi come giornale dedicato ai creativi che autoproducono non potevamo non sottrarci a questo evento considerato anche il rapporto che ci lega a Alessandro Guerriero e a Tantam. Buona lettura.